Ben trovati a Impresa Domani, oggi parliamo di lavoro, in particolare di domanda e offerta di lavoro sul territorio, cosa chiedono e come cambia la richiesta delle piccole e medie imprese e anche l'offerta di professionalità. Lo facciamo con i nostri due ospiti in studio entrambi responsabili di due agenzie interinali per Ravenna, Federica Battistini di Adecco, benvenuta, e Enrico Rava di G-Group, benvenuto. Partiamo subito col capire quali sono oggi le ricerche delle piccole imprese sul territorio. Sicuramente sul territorio di Ravenna in questo momento quello che chiedono gli imprenditori è specializzazione, quindi profili tecnici specializzati. Nel settore allen gas, che è sicuramente uno dei settori trainanti sul nostro territorio, ma anche nel settore metalmeccanico piuttosto che manifatturiero in generale, questa specializzazione si traduce in, da una parte, ingegneri specialisti in qualità, sicurezza ambiente, piuttosto che progettisti, ma significa anche la richiesta di manutentori, operatori su macchina controllo numerico, saldatori, quindi profili veramente specializzati dal punto di vista tecnico. Questa specializzazione sicuramente si ritrova anche in altri settori, in altre categorie, quindi ad esempio nell'information technology, a seconda delle esigenze delle aziende ci vengono richieste competenze informatiche di un determinato tipo, piuttosto che anche a livello, chiamiamolo impiegatizio generico, non esiste più, diciamo, o è meno frequente la richiesta di un impiegato o un'impiegata generica, ma anche qui la specializzazione riguarda ad esempio le competenze contabili, finanziarie, quindi amministrative. L'altra cosa, diciamo, che per quanto ci riguarda dal punto di vista delle richieste da parte degli imprenditori, va nel senso della internazionalizzazione. Questo è un mercato che è cambiato sicuramente negli ultimi anni, il mercato del lavoro ancora più in particolare e quindi una delle competenze sicuramente che ci viene richiesta è quella linguistica. La conoscenza della lingua inglese è ormai imprescindibile, però in un mercato come quello di Ravenna non è necessariamente sufficiente, diciamo così, l'inglese, quindi quello rimane la base, poi in un mercato come il nostro, con settori legati anche all'energia, al petrolio, la conoscenza della lingua russa, piuttosto che anche negli ultimi tempi della lingua cinese, sono sicuramente dei fattori visti sicuramente più positivamente da parte degli imprenditori nel momento in cui valutano i profili da inserire nel proprio tessuto industriale. Quindi specializzazione ed export risulta anche a voi, qual è il quadro? Beh, io non posso fare altro che confermare quello che dice Federica, i nostri imprenditori, sia piccole che medie imprese, cercano competenza dai candidati, cercano specializzazione, sicuramente in ambito produttivo obiettivo dei nostri imprenditori è quello di accrescere la propria qualità e conoscenza tecnica all'interno delle produzioni, quindi una specializzazione tecnica per quanto riguarda i profili impiegatisti, come era stato precedentemente detto, è l'internazionalizzazione, una visione globale per i candidati che si approcciano al mondo del lavoro e quindi competenze linguistiche e competenze tecniche sono fondamentali oggi nel nostro tessuto imprenditoriale. E sono competenze che gli imprenditori trovano, cioè scollamento rispetto alle selezioni che voi fate o sono profili diffusi, diciamo così? C'è sicuramente uno scollamento tra domanda e offerta, sicuramente quello che è offerto sul territorio è deficitario sulla scolarità, abbiamo ancora una scolarità di base rispetto a una scolarità alta che viene richiesta ai nostri candidati e anche a livello di competenze tecniche, registriamo competenze generiche di base rispetto a competenze specialistiche e richieste. Per scolarità intendiamo sia la scuola superiore sia il titolo universitario? Tendenzialmente molti dei nostri iscritti o comunque delle figure che transitano hanno ancora una scolarità dell'obbligo, notiamo che c'è ancora parecchia scolarità dell'obbligo, tendenzialmente oggi viene richiesto di alzare questo tipo di livello di scolarità verso la scuola secondaria ma anche universitaria. Stessi riscontri sulla formazione? Sì, sono sicuramente d'accordo nel senso che lo scolamento tra domande e offerte è sicuramente anche in parte legato al percorso formativo dei candidati. Diciamo che il gap occupazionale, ritorna ancora il tema della specializzazione, è proprio legato a questo, al fatto che ci sono alcune mansioni che sicuramente rispetto al passato esercitano meno attrattiva nei giovani, che quindi scelgono magari un percorso di studi diverso rispetto magari al profilo tecnico che viene richiesto di più dalle aziende. Vuoi farci qualche esempio di questa perdita di attrattività? Ma sì, sicuramente come dicevo prima, la figura dell'operatore su macchina controllo numerico, piuttosto che anche dell'impiegato ufficio tecnico che magari per noi vuol dire, ad esempio, un diplomato perito IT meccanico piuttosto che elettrotecnico che quindi ha un diploma perché bisogna anche specificare che gli imprenditori, almeno per quanto ci riguarda, vogliono investire anche sui giovani, quindi quando parliamo di specializzazione non vogliamo dire che i giovani sono penalizzati. Sicuramente è penalizzata la figura generica, quindi che non ha un titolo di studio, diciamo così, parliamo di scuola superiore, ma addirittura non ha un titolo di studio, diciamo così, forse coerente con quelle che sono le richieste proprio del proprio territorio. Bene, noi per completare un po' questo scenario siamo anche andati a sentire il punto di vista nazionale, possiamo vedere il servizio. Quali peculiarità ha oggi il territorio ravennate e romagnolo rispetto al resto della regione e al resto d'Italia per quanto riguarda domanda e offerta di lavoro PMI? Il territorio ravennate è caratterizzato dal porto e di conseguenza dalle attività di carpenteria pesante e di logistica. All'interno di questo ambito specifico si sono sviluppate molte PMI che sono state in grado di dimostrare la loro capacità di aggiornarsi, talvolta anche di cambiare pelle per poter essere disponibili anche a presentarsi nei mercati esteri. In queste aziende noi siamo un supporto per quanto riguarda il personale che selezioniamo e somministriamo, in particolare personale legato alla carpenteria, quindi operai specializzati nelle varie funzioni, alla logistica integrata ma anche alla progettazione per studi di ingegneria civile che poi servono a loro volta grosse imprese edili per l'Italia e per l'estero. Questo per quanto riguarda più specificamente Ravenna. Per quanto riguarda il resto della provincia ci sono altre realtà, quindi piccole aziende che lavorano nell'indotto o medie aziende che lavorano direttamente nella costruzione di macchine ad esempio per l'imballaggio, ma non solo, abbiamo una forte presenza del tessile, anche per le griff della moda che producono in quel territorio e anche una notevole presenza di agroalimentare. A tutti questi settori noi forniamo personale. Come è cambiato il lavoro delle agenzie con la crisi e con le riforme che hanno coinvolto tutto il grande tema del lavoro? Il ruolo delle agenzie per il lavoro si è riempito di significati, in questi anni dal 2008 in avanti direi che si è riempito di contenuti il termine agenzia per il lavoro. Abbiamo supportato le imprese in un momento difficile, come Umana ci siamo dedicati molto attentamente a supportarle nella conoscenza di tutte le normative che si sono stratificate in questo periodo, abbiamo formato le persone, abbiamo identificato i profili più utili per superare momenti come questo, ma a livello generale posso dire che sicuramente la stratificazione normativa che è avvenuta con le ultime leggi e decreti hanno evidenziato in modo molto chiaro che la certezza è data dalla somministrazione di lavoro e le aziende hanno capito che la flessibilità, la flessibilità ovviamente legale si trova nei contratti di somministrazione a tempo determinato, indeterminato, che noi agenzie possiamo dare. Quindi possiamo dire a pieno titolo anche grazie al recente rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori somministrati che le parti sociali hanno assolutamente riconosciuto il ruolo centrale delle nostre agenzie. L'abbiamo evocato anche in tante altre puntate, il web come interviene in questi cambiamenti, anche in questo caso nella domanda e nell'offerta di lavoro, usate i social network, usate i portali che incrociano le varie richieste e come influiscono appunto nel vostro lavoro? Beh, oggigiorno il web è fondamentale nella vita di ogni agenzia per il lavoro, fondamentale per incrociare domanda e offerta. Il web offre l'opportunità di approcciare anche candidature che fino a pochi anni fa non sarebbero mai transitate dall'agenzia per il lavoro col normale porta a porta e quindi coerentemente è quello che abbiamo detto prima anche di alzare e specializzare il livello delle nostre candidature. I social network, prima di tutto LinkedIn ma anche Facebook hanno sicuramente aumentato il portafoglio delle candidature che ogni agenzia è in grado di offrire. Ovviamente internet è anche, se vogliamo, un concorrente dell'agenzia per il lavoro, prima di tutto LinkedIn, molte società operano anche direttamente sul web le proprie ricerche. Comunque è sicuramente un canale fondamentale sia per le ricerche a più ampio respiro ma anche per le ricerche territoriali. E' mai capitato di venire, che la vostra remediazione venisse in qualche modo scavalcata dal web? Allora, scavalcata non ci è capitato. Sicuramente qualsiasi agenzia per il lavoro, qualsiasi società di ricerca e selezione utilizza il web e quindi quello che capita a volte è avere una sorta di omogeneità di offerte di lavoro anche sul web, a volte le stesse, diciamo così. Però sicuramente sono d'accordo, è uno strumento in questo momento fondamentale. Non possiamo più pensare, nemmeno i candidati possono più pensare di candidarsi ad offerte di lavoro esclusivamente ricandosi di persona nei nostri uffici. Addirittura anche l'iscrizione spesso in parte avviene online e poi si completa con un colloquio conoscitivo. Quindi diciamo che utilizzare siti specializzati per pubblicare delle offerte di lavoro non fa altro che completare diciamo così un processo che ormai è già consolidato e avviato insomma da un po' di tempo. La nostra è una delle province più grandi d'Italia, molto variegata, contiene diverse realtà. Notate dei cambiamenti tra comune e comune, la bassa Romagna, Ravenna, la costa, nelle richieste e nell'offerta di lavoro. La nostra provincia è grande, quindi ci sono territorialità che esprimono tessuti imprenditoriali diversi. Sicuramente Ravenna è caratterizzata da una forte presenza dell'impiantistica, della logistica portuale, mentre il territorio di faenza della bassa Romagna è maggiormente caratterizzato da una presenza della meccanica o dell'agroalimentare e quindi di settori affini. La costa, il Cervese rimane legato e ha forte vocazione turistica alberghiera e quindi stagionale. Diciamo che ci sono delle differenze di questa territorialità che si riflettono anche poi sull'offerta dei candidati che in un'ottica appunto di specializzazione sempre di più sanno dove andare a parare e nei settori che tirano quei territori. Anche dal punto di vista un po' della geografia del lavoro voi che cosa notate? Sì, diciamo che confermo anche in questo caso. Sicuramente forse Faenza e Lugo appunto sono abbastanza simili come tessuto artigianale e industriale, mentre Ravenna appunto con tutto l'indotto diciamo così del porto piuttosto che appunto energia, oil and gas, ha qualche particolarità in più. Però sicuramente una costante resta la ricerca in questo momento di competenze, di specializzazione da parte delle imprese, mentre possiamo rilevare sicuramente una uniformità diciamo così nel database, quindi di persone che sicuramente rispecchiano più un profilo generico sia su Ravenna che su Faenza e Lugo rispetto magari alle richieste territoriali. Ultima domanda per entrambi, che 2014 vi aspettate visto che siamo ormai agli sgoccioli di questo 2013? Beh ci aspettiamo un 2014, si spera in leggera ripresa. Non credo ci sarà un trend completamente diverso da quello del 2013, almeno dal nostro osservatorio, si spera in interventi che riducendo il costo del lavoro e focalizzandosi magari su contratti come l'apprendistato rivolto ai giovani, possano trainare anche settori più in difficoltà come l'edile nella fuoriuscita dalla crisi. Stessa cosa per ad ecco? Sì, diciamo che noi abbiamo registrato nelle ultime settimane un segno positivo, un numero levemente maggiore delle richieste di personale, però sono appunto segnali che devono essere confermati nel tempo, sono sicuramente segnali ancora timidi, ancora deboli, che non ci fanno assolutamente parlare in questo momento di ripresa. Quello che ci auguriamo appunto è che il 2014 veda una continuazione di questo tipo di segnali positivi e che si possa effettivamente almeno a metà del 2014 parlare di ripresa. Sicuramente le imprese per poter attuare questo tipo di ripresa dovranno essere supportate sicuramente in una semplificazione, quindi la cosiddetta flessibilità buona che vede da una parte assolutamente la tutela dei diritti e dei livelli retributivi anche dei lavoratori va garantita, però sicuramente attraverso forme più agili, meno burocratizzate, meno pressanti anche dal punto di vista appunto del costo del lavoro e della pressione fiscale sicuramente possono senz'altro aiutare e supportare le imprese nella via per la ripresa. Bene, grazie, grazie a tutti.